4, 3, 2, 1, via! 100 in abballamento Tieni la destra sul gridale Sinistra 6, tieni la destra sul gridale Non tagliare Destra 2, gridale 80 Tieni la sinistra sul gridale 80, destra 3, 60 Non tagliare Destra 2, non tagliare Sinistra 3 E crinale destra 3, non tagliare In sinistra 2, 100 Attenzione, preda, tornate aperto, sinistra E destra 2, lunga, stringe, non tagliare In sinistra 3, non tagliare Prudenza, destra 2 In sinistra 3, crinale, non tagliare E destra 4, tieni la sinistra sul gridale 100 in abballamento Stai al centro sul gridale 80, sinistra 4, stringe E destra 3, non tagliare E sinistra 4, 60 Attenzione, sinistra 4 sul gridale E sinistra 1 Tieni la destra sul gridale Tieni la sinistra sul gridale Attenzione, destra 1 E destra 4 sul gridale Sinistra 3, non tagliare E crinale destra 3 In sinistra 2 Tieni la destra sul gridale 80 Attenzione, crinale Sinistra 2 60 in abballamento Tieni la sinistra sul gridale Destra 6 Destra 2 In sinistra 3, gridale E destra 4 Non tagliare Tieni la sinistra sul gridale 100 in abballamento Stai al centro sul gridale 100 Stai al centro sul gridale 100 in abballamento Tieni la destra sul gridale Tieni la sinistra sul gridale 100 in abballamento Stai al centro sul gridale 80 Destra 3 60 Non tagliare Destra 2 Non tagliare Destra 4 e sinistra 3 non tagliare e destra 4 apre sinistra 3 e crinale destra 3 non tagliare in sinistra 2 destra 4 non tagliare e sinistra 3 e destra 4 apre non tagliare attenzione sinistra 4 sul crinale e sinistra 1 tienila destra sul crinale portante in appallamento attenzione crinale destra 5 e sinistra 6 250 appallamento destra 5 crinale tornante sinistra dozzi 60 sinistra 4 e attenzione destra 2 sul crinale in destra 2 non tagliare portante in appallamento sinistra 5 portante in appallamento attenzione crinale destra 5 e sinistra 6 cancello portante sinistra 5 crinale e crinale non tagliare portante in appallamento sinistra 5 lunga non tagliare altra guarda ok verso il commissario la no Grazie a tutti.